9 dicembre stiamo andando a Greccio mi sono fermato qui perché voglio vedere tutta la vallata guardate io adesso questi paesi così grandi che si vedono all'infondo non lo so nemmeno come si chiamano però quello dovrebbe essere sicuro il monte Terminillo vedete qua tutta la vallata di Rieti la strada che da Rieti va a Terni poi adesso andiamo sopra adesso ci siamo fermati proprio per fare una piccola ripresa qui non lo so come si chiama quel paese enorme sopra mi vergogno ma non lo so come si chiama e quello sicuramente è il monte Terminillo allora andiamo avanti siamo arrivati al santuario di Greccio questo è un santuario francescano guardate come è stato costruito sopra la roccia ma poi non avevano gli attrezzi che ci sono oggi a portare tutte le pietre sopra mamma mia lavorarle portarle su per fare questo santuario vedete come si vede bene sta appiccicato alla roccia proprio adesso poi andiamo sopra a vederlo bisogna salire mille gradini non lo so quanti per andare sopra vedete che spettacolo che è e questo qui domina tutta la vallata lì sopra si domina tutta la vallata di Rieti è una cosa pazzesca guardate che grande forza di volontà che avevano grandi lavoratori erano ora siamo arrivati al santuario francescano di Greccio il cammino di Sant'Antonio da Padova il cammino di Francesco il monte vallinico che si eleva alle spalle del santuario francescano fino ad una quota di 914 metri è interamente ricoperto di una fitta lecceta i lecci è una pianta sempre verde questa che lascia scoperte solo piccole aree scoscese di roccia un sito di interesse comunitario protegge questa preziosa lecceta per il suo valore ambientale naturalistico e la presenza di specie faunistiche rare ma altrettanto elevato il suo valore simbolico e storico percorrere oggi il sentiero che la attraversa è come fare un tuffo nel passato e ricalcare le orme di San Francesco immergendosi nella penombra e nella silenziosa acquiete del bosco per rivivere l'atmosfera di serenità che deve aver ispirato anche il santo che proprio nella natura trovava l'aspirio e l'aspiritualità la acquiete e il raccoglimento che cercava qui siamo arrivati al santuario vedete è pieno di gente siamo passati a Greccio non si passava perché ci sono i mercatini però era troppo pieno e siamo andati via poi ci rendiamo il pomeriggio magari a vedere i mercatini di Greccio però qui il santuario è sempre pieno io sono venuto altre volte è sempre pieno adesso poi nel periodo di Natale c'è il presepe è ancora più pieno diciamo vedete come sta incastonato nelle rocce questo edificio e guardate la vallata sotto la vallata del Reatino vedete giù vedete come sta incastonato nelle rocce sta addosso alla montagna e quello è famoso leccele 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 una leccele un bosco di leccele non sapevo che si chiamava leccele vedete però questo è stato ristrutturato di recente perché non era così non può essere così poi sono andata quando sono sceso l'ho denunciato sono andata io mi guarda che ci sono uno un macio poi lo dobbiamo vedere da sotto da lontano perché così si vede poco farvi vedere come è stato proprio adagiato sulle rocce come tutti i commenti francescani sempre cercavano il punto più in alto qui l'ho fatto un piccolo anfiteatro vedi all'aperto dove sta greggio quello là è greggio eccolo là quello che si vede in lontananza quello è greggio guardate questi lecci come sono ricogliosi è un buon clima qua c'è l'ulivo quindi dove c'è l'ulivo vuol dire che il clima è mite spettacolare qua evidentemente San Francesco è stato ispirato quando è venuto qui ha detto qui voglio fare il mio il mio commento dove lui è vissuto quello è il monte è quello lì no? è il monte sicuro no? il termenillo è quello sicuro non è che ci sbagliamo no? dobbiamo chiederlo qui c'è una guida che sta spiegando io scrocco la consulenza è molto ricca infatti qui coltivano tantissimo granulico, mais, grano proprio di maniera intensiva patate perché in questa zona non tanto è una zona del mare perché è travezza questo è origano quasi c'è una piantata di origano qua buono questo è buono no questo è origano questo è buono per la pizza vedete? non me lo frego il basilico ti penso no il basilico questo è origano lo metti alla pizza è speciale è duro da digerire senti come profuma di origano però questo non si digerisce facilmente se mette l'origano il basilico si digerisce di più l'origano è come l'aglio non è che lo digerisci facilmente ti ho fatto caso? io ce l'ho la pianta di origano facciamo la ripresa prima dell'uscita e poi dell'entrata uscita i cani non ci li vogliono però dice noi restiamo volentieri fuori facciamo al contrario prima l'uscita e poi l'entrata entrata della chiesa vedete che bel portale di bronzo San Francesco con il lupo si vede male perché rimane in penombra andiamo dentro siamo all'interno della chiesa vedete come è stata finalmente ristrutturata io sono un po' contrario a questo hanno listato queste pietre in questo modo non è che sono molto d'accordo io ecco vedete sta proprio nella roccia è proprio appiccicato sopra si vede la roccia le pareti sono la roccia vedete il Cristo sta nella roccia andiamola a vedere da vicino vedete hanno scavato la roccia qui sta scavata la roccia dove sta il Gesù Cristo vedete guardate e sopra sta lo intonagato uno spritzbeton e qui ci sono i confessionali che generosa risplende intorno a me dono di lui del suo immenso amore poi andiamo a vedere dove dormiva San Francesco e le chiare stelle ci flesce adesso riusciamo a vedere qualcosa vedete ecco il presente vedete non posso alzare la voce perché sono delle persone che stanno pregando la madre terra con frutti, frati e fiori il fuoco, il vento l'aria e l'acqua pura ponte di vita per il suo immenso amore dono di lui del suo immenso amore dono di lui che cos'è qua questo non riesco a capirlo poi è scritto in latino una piccola traduzione in italiano ci voleva perché non tutti abbiamo fatto il classico io ho fatto il classico e lo so il latino ma non tutti hanno fatto il classico Barcellona Spagna questo dovrebbe essere San Francesco che guarisce un malato di lebra perché vedo questo signore ha la lebra vedete è un santo guaritore anche San Francesco come San Antonio entrata della grotta come nel mio cuore ora mi sente sta nascendo amore dolce capire che non sono più solo ma che sono parte il 2 gennaio del 1983 è venuto a pregare in questa grotta Papa Giovanni Paolo II vedete e poi qui è venuto il Papa Francesco il 4 gennaio del 2016 vedete questa era la cucina col camino tutto piccolino era il suo amore ma si può entrare dentro? c'è il giro ok 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 Creccio Santuario di San Francesco rifertorio e dormitorio dei compagni di Ciela di San Francesco l'eram l'eram edificato secondo la tradizione da Giovanni Vedita della famiglia dei Conti Berardi di Cielano nel secondo decennio del XIII secolo era costituito a dare il suo nucleo originale dalla grotta del presepe rifertorio dormitorio e cella del Santo qui il primo avvio del Santo Tommaso da Cielano testimonia dei bisogni salenti della sua vita nel rifertorio la parete destra è decorata con affreschi a sinistra un frate francescano ammonisce al silenzio mentre sulla destra strumenti e simboli alludano a episodi della passione di Cristo un angelo mostra la lancia di San Longino e i flageli della croce prende l'immagine dell'eronica mentre un altro angelo mostra delle tenaglie vedete qui com'era questo è rimasto com'era vedete qua ci sono ancora le pietre che sono state diciamo sporcate dal grasso delle mani no? perché qui toccano la gente lo faccio pure io adesso mi faccio la croce eh sì così questi sono così affreschi che intimano al silenzio vedi state in silenzio orate in silenzio pregate in silenzio guardate qui c'è il dormitorio vedete le celle a destra e a sinistra erano piccole 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 c'entrava giusto giusto un letto ma nemmeno qui pregavano vedete guardate lì guardate qui dormitorio di San Buonaventura secolo XIII 1200 1223 2023 ottocentenario della regola di San Francesco e del Natale di Greggio nel 1223 sono avvenuti due avvenuti due avvenimenti insomma cacofonico vabbè molto importanti per la vita di San Francesco d'Assisi divenuti poi cruciali per l'ordine francescano e tutta la chiesa nel santuario di Fonte Colombo Francesco scrive la regola di vita dei frati minori approvata dal Papa Onorio III il 29 novembre le famose regole che disse abbiamo visto nel film il Natale dello stesso anno poco distante a Greggio dà vita alla rievocazione della Natività del Signore un evento conosciuto di più come il presepio di Greggio a distanza di 800 anni vogliamo celebrare insieme a te la memoria e lo spirito di questi due eventi che si inseriscono in una serie di anniversari legati alla vita di San Francesco ti invitiamo a visitare questi luoghi sacri in questo periodo di grazia e auguriamo di rivivere insieme a noi la pace che ancora oggi l'opera di San Francesco ispira a tutte le donne e le donne di buona volontà del mondo provincia di San Braaventura dei frati minori questi gli eventi 2023 la regola il Natale di Creccio 2024 il dono delle stimmate 2025 il cantico delle creature questo cantico delle creature è una cosa spettacolare sono state poesie bellissime la Pasqua di San Francesco nel 2026 quindi praticamente 800 anni a scalare così 23 24 25 26 ok qui è stato ristrutturato vedete finemente ristrutturato però a quei tempi non c'era la possibilità di fare questo quindi questi sono stati rifatti tutti io vedo questa è una pietra bianca a calcare molto resistente però vedete è stata lavorata sono stati fatti questi conci ma non credo che a quei tempi erano poveri non potevano permetterselo quindi era sicuramente diverso poi qua gli hanno dato anche un un coppale qualcosa vedete trasparente vedete come luccica proprio per non farci attaccare la polvere anche per farlo più lucido più sì una vernice trasparente gli hanno dato poi qui sopra sono stati fatti tutti nuovi questi perché erano tutti rovinati dalle tarme questo è castagno queste sono delle le tavole maschiettate le riconosco perché vedete non c'è nessun nessuno spazio vedete qui all'esterno c'è un bellissimo quadro fatto in ceramica vedete sono tutte maiole che è un mosaico vedete bellissimo vediamo chi l'ha fatto l'ha fatto un pittore che si chiama Lorenzo Ferri il ceramista si chiama Armanto Palamaro anno 1965 bellissimo è forte sembra un puzzle tutte ceramiche appiccicate che raffreddurano un miracolo credo qui stiamo nella stanza dei presepi vedete altronde lui l'ha inventato il presepi il presepio l'ha inventato San Francesco quindi non è che si si qua dobbiamo tenere un tono basso pieno di gente che che sono venuti presepi di Esposito Bisma Cosenza 2018 questo in un'anfora l'ha fatto guarda che bellissimo presepi poi l'ha donato l'ha donato qui vedi Aldo Lengo G Esposito piccolo piccolo dentro un'anfora vedete spettacolo bello tutti belli questi piccolini poi non c'è l'autore questo qui i frati francescani e accendere i flash altrimenti non vedo niente però risplende con risplende con gli specchi con i vetri vedete non ci posso fare niente se non lo uso i flash non si vede mica lo possiamo provare vediamo vedete belli uno più bello da un altro guardate questo lo dice pure dalla Puglia questo viene natività e pastori in un rudere autore Francesco in media Francavilla Fontana BR arrivo questo è un presepio questo è originale questo qua questo è un presepio moderno vedete fatto di di cristallo che cos'è questo che c'è scritto dimmi dimmi che io non ci vedo manco con gli occhiali allora autore te lo illumino è salvador ah salvador è sud America è salvador dove arrivò Cristoforo Colombo giusto ah è salvador lui sbarcò è giusto ho detto giusto uno pensa che è sbarcato in America ah è salvador è sbarcato vedete questi nella roccia sono incastonati nella roccia vedete questa roccia calcare vedete vado su in alto bello 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 questo sono tutti belli però è inutile non c'è un più bello stesso problema accendo il flash però mi luccica non so che fare questo è molto bello rappresenta tutta la vita di quei tempi vedete si d'altronde il presepe è una rappresentazione della quotidianità però con nella nascita di Gesù questo rappresenta praticamente il presepio è l'unico sistema per non farmi risplendere il flash dall'alto le devo vedere così è l'unico ecco qua vedete ho trovato il sistema vi guardo dall'alto presepio del tronco manfredo proietti autore ah questo è un trucco vuoto bellissimo questo mannaggia questo flash mi rovina le riprese ahiaia vedi la luce che si verde che gli faccio? no non lo faccio no ma se non ci metto il flash non mi viene niente presepio tirolese carta e gesso donato da soluzione amici del presepio verbale beh lo vedo dall'alto ecco qua faccio così se lo vedo dall'alto non riflette il vetro e no non riflette il vetro vedete eccolo però devo fare così ah è forte che idea un presepio fatto di di Swarovski questo pure io uno di questi forte 1995 quindi è questa è tutta una carrellata di presepi lungo lungo la roccia della montagna intorno intorno gira e sono 100 non lo so quanti sono non più di 100 poi pieno di stranieri qua non sono italiani sono tutti inglesi tedeschi ragazzi per concludere il video vi faccio vedere qui una bellissima pianura sembrate stare nella pianura padana qua vedete adesso domandiamo al signore come si chiama quel paese su in alto che non lo so ma mo se n'è andato stanno trebbiando adesso perché prima non si poteva entrare che era troppo abbagnato e la mia di trebbia affondava quindi adesso a dicembre stanno trebbiando vedete però va bene lo stesso vedete ma enorme qui è una bellissima vallata questa tutta coltivata mais leguminose eccetera 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 vedete poi ci sono dei casali di tutte le aziende agricole qua vedete ecco qua è una cosa bellissima qua io non mi ero mai fermato adesso come ho visto che stavano trebbiando e c'era il padrone della terra ho chiesto ma come funziona e me ne sono preso due piccolini così li metto nel mio orticello eccoli qua vedete come si chiama quel paese signore quello grande 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 Poggio Bustone ma quello è quello di Lucio Battisti ah ecco qua grazie lo faccio vedere allora il signore mi dice che quello è il famoso Poggio Bustone paese nativo di Lucio Battisti quello famoso dei giardini di marzo ve lo ricordate no chi è che non ha che non si ricorda Lucio Battisti guardate quello su guardate è alto è grande quel paese è esposto pure molto bene a sud è esposto a sud vedete quanti paesi intorno a queste montagne ci sono quello quello è Poggio Bustone oh cavolo vabbè allora possiamo andare ok chiudo qui il video ciao per concludere vi faccio vedere che qui hanno la pista ciclabile hanno fin anche la pista ciclabile vedete in questa pianura in questa vallata guardate eh sì insomma stanno avanti a noi questi questa dovrebbe essere una zona molto ricca dovrebbe essere una zona fertile ricca l'agricoltura funziona qui non è come da noi che non ci sta a parte che ci hanno invaso i cinchiali eh però ok allora chiudo qui con questa pista ciclabile sopra questa vallata ci passano delle linee aeree vedete queste verranno da Ciampino eh sicuramente vengono da Ciampino vedete sono due aeree che si sono incrociati e stanno facendo delle parallele divergenti perché uno viene verso di me e l'altro va verso il mare lì forse quello va a Fiumicino non lo so che ci sta di qua vedete questo viene verso noi verso nord e quello va verso sud ovest cioè perché il sole sta tramontando a ovest e quello è il sole lì vedete ecco il sole e questi gli aerei si sono incrociati sembrava quasi che si toccavano evidentemente uno sta a una quota più alta una più bassa chiaro però è forte era particolare non ho fatto in tempo ad accendere il cellulare per farvi vedere che si incrociavano proprio sembrava quasi che andavano a toccare invece no uno gira a destra e uno viene verso di me vedete bellissima sta cosa a Grazie a tutti. Grazie a tutti.